Tutto pronto per una nuova puntata di Playstube Siena. La top 10 che ti permette di programmare le uscite del fine settimana e della settimana entrante. Il mega grazie a tutti gli amici che ci seguono e che ogni settimana diventano sempre più numerosi. Aiutateci a far conoscere la top 10 condividendola su vostri profili e parlate con i vostri amici che hanno un'attività. Possono diventare partner nella social tv delle attività locali. Pronti per iniziare? Sigla! Dall'ora 22 Caccia Fiera a Siena presenza Sandro Joyeux con un concerto che è un'inizione di pura energia e allegria. Un viaggio mistico attraverso i ritmi del deserto e le strane polverose del West-Up tra le bambini parigine e il reggae dei ghetti ciamahani. Dall'ora 23 Grande Bagare a Papillon con Morosità's Club. I DJ della Main Room sono Luca Nonzelli che da Poggi Fonsi a Monteroni si è fatto strada nei migliori club d'Italia ed europei. Riccardo Ferri, Di Chiara Brothers e Samuele Scelpo. Una serata di musica e tanto divertimento. Il principe e la balia sono lieti di invitare studenti e studentesse sienese e non ad una nuova festa che si terrà dalle ore 23 a San Nicolò a Siena. Serata tutta da divertirsi con 17 ingresso gratuito. Gaudiamo! Raccontare, affabulare, sono gli strumenti più elementari che gli uomini hanno per costruire attorno a loro un immaginario. Una realtà in cui agire e costruire un immaginario è l'elemento fondamentale per chi si occupa di divulgazione. Dalle ore 15 e 30 inizia un ciclo di seminari intensivi a Storytelling. Narare la storia, narare l'arte per tutti gli appassionati di storia e di arte presso la Sala Francović a Poggi Fonsi. Dalle ore 10 alle ore 18 all'interno della suggestiva cornice del complesso di Sant'Agostino a Montalcino si dà il benvenuto ai preciatissimi vini soscani. Prunello di Montalcino del 2012, la riserva del 2011, il rosso di Montalcino del 2015, Moscadello e Sant'Antimo. Due giornate aperte e privati in forma di walk-around tasting, un evento da non mancare per tutti gli appassionati del vino. Il Sangonnario Beer Shop vuole festeggiare con voi un anno di birre bevute insieme. Ecco Happy Beer Day Sangonnario, un evento composto da musica, grazie a DG Fumo e la combricola del disco, da buon cibo con la partecipazione del chiosco di Milcone e tanta birra Sangonnario. L'evento inizierà a 18 presso il Beer Shop. Dalle ore 12 e 30 presso il Palazzo San Sedoni a Siena si terrà la performance La Famiglia San Sedoni, i personaggi che hanno fatto la storia di un palazzo. La loro storia, le loro passioni e gli intrecci che fecero del palazzo un luogo di incontro di nobili e principi, appagamento e supernotazione. Benessere è sinonimo di consapevolezza, per questo Beer Vita a Siena è anche uno spazio per approfondire la conoscenza della persona e della sua realtà. Dalle ore 19 presso il negozio avrà il luogo Beer Vita per conoscerci, con la partecipazione di Marina Borruso, un evento rivolto al benessere della persona. Temi universali come la guerra, l'amore, l'inganno politico, la morte e la condizione di prigionia vengono attraversati in questo lungo monologo con delicatezza e passione, lucidità e poesia, come solo una veggente non creduta può fare. Dalle ore 21 e 15 Cassandra, la parola la guerra e l'amore, c'è il suo tirato di Ruzzi a Siena. Peter Pick è un artista eclettico che ama amalgamare insieme varie forme d'arte, come colore sulla tavolozza che da cantante e pittore spesso usa, unendo la musica alla pittura e alla fotografia, passando da testi ai quadri e ai libri senza soluzioni di continuità. Dalle ore 21 la sua performance si terrà presso Bottega Ruzzi a Colle Valdezza. Se ti è piaciuta questa puntata, faccelo sapere nei commenti. Tutti i suggerimenti che ti vengono in mente sono ben accetti. Se invece vuoi condividerla o mettere un mi piace, ne saremo felici. Se partecipi a qualche evento a Siena o in provincia, posta foto o video con l'hashtag PlayStubiSiena. Ti condivideremo sulle nostre pagine. Ci vediamo la settimana prossima, stessa ora, tanti posti diversi. Ciao!